PEGI 18 Nel mondo, diventerai un esempio. No! Quando il tuo nemico è ovunque... Infrangerai le leggi per mantenere l'ordine. Agirai alla luce del giorno. Quando l'oscurità è tua alleata. Userai il silenzio. Per scatenare il caos. Distillerai il terrore. Per riacquistare la libertà. C'è un solo modo per fermare questa minaccia. Il tuo. Sappiamo chi cercare? Majid Sadiq, l'uomo dietro agli ingegneri. Voglio l'intera costa in fiamme, per quanto attento. È il nostro collegamento agli ingegneri. Non possiamo delegare nessun altro. Chi sei? Sono l'uomo che ti ucciderà. Splinter Cell Blacklist. Le tue regole e la tua scelta. Disponibile dal 22 agosto. dietro alla mamma behaviogena. Il miuso dietro. E poi pagare il minaccia. E poi metterlapping la balle Sant типа e faccio di una blevaglie. Con� candidates con un luogo indagine.